Cinque anni fa, mi sembra, Angela Merkel disse Wir schaffen das, che vuol dire ma ce la faremo. Il popolo tedesco è certamente molto diverso dal popolo italiano. Cinque anni fa non sono oggi, la situazione è molto complicata, lo sappiamo benissimo. Però vedete, quando io vedo De Luca che agita, il governatore della campagna, una lastra di un ragazzo, ecco, quello è generare terrore, è un presidente di una regione. Cioè non è creando l'ansia, la paura, anche i termini che si usano, coprifuoco. Ma coprifuoco è un termine di guerra. Io mi rifiuto di usare per questa storia, e l'ho detto fin dai tempi non sospetti lontani, ma però la guerra è un'altra cosa, totalmente diversa dalla storia e dalla situazione che viviamo noi. Però se noi ingeneriamo tutta quest'ansia, questa paura, appena uno starnutisce si guarda tutti in giro spaventati. Questo non è un segnale positivo per la gente del paese. Poi lo dico al governo, ma io ho sentito anche il nostro collega interagionale, ma cosa vuol dire? Ah, i ristoratori. Se si chiude alle 18, i ristoratori. Ma non è solo i ristoratori. Dietro la ristorazione c'è un mondo, ma si sappia che questo mondo, ecco che mi riallaccio alle manifestazioni che abbiamo visto di violenza, orribili, deprecabili, perché non esiste la violenza, non si risolve nulla con la violenza, però con le persone bisogna sensibilizzarle, bisogna parlarle, bisogna anche rassicurarle, come fece Angela Merkel, con quel Wir schaffen das, questa è la metropolitana di Roma, tutti ammassati, poi allora però non posso andare al ristorante, ma io posso stare qui, questo è tollerato. Le palestre non sono straordinariamente necessarie, ma chi vive solo, chi ha una palestra e vive con quel bene. Adesso il governo dice lì ristoreremo, ma io spero che avvenga questo, spero che avvenga questo, però francamente io credo che nei momenti difficili bisogna compattarsi e la cosa più facile è chiudere, è la cosa più facile. Forse in questi mesi qualcuno doveva fare altro e si è perso del tempo in modo incredibile e poi si arriva a questo.